Eccoci in aeroporto, siamo pronti per le partenze di oggi, qui c'è Betty e Lemmy, sono pronti per partire. Certo si guardano un po' in giro e sono un po' spaventati, ma presto saranno a casa e avranno una casetta tutta loro, finalmente. Ricopriamo, ecco qua, qui abbiamo Melissa, anche lei andrà a stare in una bella casetta, ha già un fratellino che lo aspetta, vero Meli? Ah, bella brava dai, che fra un po' vai a casa. Ciao amore, ciao, ciao tesoro. Chiudiamo pure lei, così la evita e sta più tranquilla. Qui abbiamo Chantilly e il signor gattino. Amore, sei tranquillo, visto parti con la tua bella. Chantilly, fai la brava, fai la brava, ah amore, è un po' arrabbiata. Stai tranquilla amore, stai tranquilla che vai a stare bene, vai a stare in una casetta tutta tua, col tuo fratellino. Chiudiamo pure loro e andiamo a sbrigare i documenti per la partenza.